Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Terminati in anticipo i lavori di posizionamento delle scogliere in Sassogna di Fano Un investimento di quasi 4 milioni di euro Sindaco Raggiante si mette ai comandi del ragno meccanico Triplicati i casi di morbillo in Italia, i vaccini diventeranno obbligatori A Pesaro presentati i dati relativi alle vaccinazioni del 2016 Sarà il palcoscenico di grandi eventi estivi Alla rocca malatestiana di Fano sono quasi ultimati Lavori di ristrutturazione, ora un bando per affidarne la gestione Un capriolo finisce nel canale, i passanti lanciano l'allarme Ma dell'animale nessuna traccia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17 Dunque pare che la strada mangiata dalle onde Così come le mareggiate che si portano via metri e metri di spiaggia Sono un antico ricordo Adesso ci sono le scogliere Gli ultimi blocchi di granito provenienti dalla Croazia stanno per essere posizionati Dalla gigantesca gru sulla chiatta sulle due scogliere davanti all'anfiteatro Rastat Chiudendo così anche in anticipo e sui tempi stimati I lavori delle scogliere partiti dalla zona sud di Fano ad aprile 2016 3.900.000 euro di spesa e due ditte impegnate nel posizionamento Hanno disegnato così il profilo davanti a Viale Ruggeri Con una precisione tale che desta non poca ammirazione nei passanti Da dare l'impressione di essere disegnate con il righello Tanto sono precise Oggi siamo andati sul posto assieme ad Assessore ed un raggiante sindaco A vedere da vicino questa opera pubblica tanto importante per Fano Un bel momento perché siamo quasi alla fine dei due contratti che avevamo per fare le nuove scogliere Insomma oggi è uno degli ultimi giorni in cui lavorano E quindi pensiamo di aver fatto una cosa storica per questa città Perché da tantissimi anni aspettavano i cittadini queste scogliere Quindi oggi andiamo a vedere quasi la conclusione dei lavori Ovviamente ci saranno poi i ripascimenti della spiaggia Però sicuramente oggi è una giornata storica per noi Allora promessa mantenuta, Viale Ruggeri era un punto cruciale di quelli che erano i suoi obiettivi Beh non posso nascondere la soddisfazione Ricordo prima di diventare sindaco un incontro che feci con i residenti qui della Sassonia Durante una giornata di pioggia dove mi presi questo impegno A due anni e mezzo l'impegno è stato mantenuto Un lavoro importante, straordinario Che ha portato un grande beneficio a tutela della costa A tutela delle persone che abitano vicino alla costa Ma anche per gli esercenti, gli stabilimenti E poi devo dire che gli osservatori Noi sappiamo che ci sono sempre gli osservatori La mattina che fanno la passeggiata Sono rimasti tutti stupiti dal capolavoro che è stato fatto Perché tutti si chiedevano come riescono a mettere scogli irregolari In una posizione perfetta, incastrata l'uno con l'altro Che hanno una funzione anche bella da vedere Quindi grande soddisfazione Il merito anche a chi ha lavorato in questi due interventi Dimostrando grande professionalità Ma soprattutto io penso che questa sia la vera risposta Che i cittadini si aspettano da chi amministra una città E adesso la cronaca invece Con un pranzo Un pranzo che è degenerato in una lite Una lite familiare Dove una donna che ora accusa l'ex compagno di lesioni Durante il litigio l'uomo avrebbe colpito anche la figlia E per questo motivo è a processo per percosse Un episodio che risale al 30 marzo del 2014 Durante il pranzo della domenica Un quarantenne era andato a prendere la figlia A casa dell'ex convivente a Fossombrone Secondo quanto ricostruito da una testimone Durante l'udienza che si è tenuta oggi al Tribunale di Urbino L'imputato ha prima insultato la ex compesante ingiurie Per poi colpirla con un calcio Nella collutazione sarebbe stata colpita Con uno schiaffo in faccia dal padre Anche la bambina che si trovava in braccio alla madre L'uomo rischia da sei mesi a tre anni di reclusione per lesioni E fino a sei mesi di carcere per le percosse Triplicati i casi di morbillo In Italia i vaccini diventeranno obbligatori A Pesaro sono stati presentati questa mattina I dati relativi alle vaccinazioni nel 2016 Prevenire è sicuramente meglio che curare Come un saggio detto ci ricorda E uno degli strumenti di prevenzione primaria Contro le malattie infettive Sono i vaccini Essenziali per la salute della popolazione Soprattutto delle categorie più a rischio E stamattina a Pesaro Sono stati presentati i dati del report Sulle vaccinazioni dell'anno 2016 Dell'area vasta 1 Che comprende i comuni di Pesaro, Fano e Urbino L'entità, la gravità dell'epidemia Si è ridotta Perché il virus fa fatica a poter circolare Da un individuo all'altro In quanto ci sono molti soggetti Che hanno fatto la vaccinazione Quindi sono protetti nei confronti della malattia Più è alto il numero di soggetti Protetti nei confronti della malattia Attraverso un vaccino come quello del morbillo Che è un vaccino tranquillo Piuttosto che prendersi la malattia Più è alto il numero di soggetti protetti Più il microorganismo fa fatica a circolare Sta di fatto che però le basse coperture vaccinali La non adesione alla vaccinazione Crea ogni anno un gruppo di soggetti Che sono suscettibili alla malattia E accumulandosi questi soggetti Di anno in anno Si crea quella sacca di persone Che possono essere recettivi E quindi dar luogo a piccole ondate epidemiche I vaccini da quando sono stati scoperti E introdotti in campo medico Hanno salvato milioni di vite E contribuito a far scomparire malattie mortali Prima tra tutte il vaiolo Eppure molte persone sembrerebbero Aver già dimenticato Gli importanti passi in avanti E i grandi benefici dei vaccini Basti pensare che una malattia come il morbillo Può essere letale Quando subentrano encefalite E complicanze respiratorie E poi la meningite di origine virale Causata cioè da un virus Che in un caso su mille Può provocare conseguenze A livello del sistema nervoso centrale La nostra regione è la seconda in Italia Dopo l'Emilia Romagna Ad esprimersi in termini legislativi In tema di vaccini Grazie ad una proposta di legge Di assolvimento degli obblighi vaccinali Per l'accesso ai nidi di infanzia Ai centri per l'infanzia pubblici e privati Convenzionati E a certi tipi di servizi sperimentali Cercando così di diminuire La cosiddetta esitazione vaccinale E cioè la perplessità Riguardo ai vaccini Delle nuove generazioni di genitori Legalità e agromafie Di questo si è parlato In un incontro promosso Dalla CGL di Pesaro e Urbino E dall'Università di Urbino CGL affronta un argomento Che anche su questo territorio Ha avuto dei risvolti Poco distante da qua C'è una fattoria Insomma della legalità Sì, infatti Le iniziative che realizziamo All'interno di questo calendario di eventi Denominato Primavera delle legalità Noi quest'anno come CGL Abbiamo scelto il tema delle agromafie Nasce l'idea di fare tutto ciò Attorno appunto alla fattoria Della legalità di Isola del Piano Lì nel 2011 Attorno a questo bene A questi beni Case e terreni Sequestrati e confiscati E le mafie E' nato appunto Sia il coordinamento di Libera Fatto di associazioni Sia il coordinamento antimafie Che appunto organizza Questo calendario di eventi Che è fatto da istituzioni Da associazioni Dall'Associazione Nazionale Magistrati Da moltissime scuole Ed è soprattutto infatti Ai ragazzi e le ragazze Che ci rivolgiamo Anche questa mattina Qui all'Università di Urbino La sete di staccata di Fano Ci sono molti studenti e studentesse Alcuni passanti Questa mattina Presto Hanno segnalato Ai vigili del fuoco Un capriolo Un capriolo in difficoltà Lungo il canale Albania Fano L'esemplare di giovanità Probabilmente invogliato A scendere in basso Dal livello dell'acqua Piuttosto esiguo Si è spinto Fino al rotatorio All'inizio della superstrada E78 Alcuni passanti Lo hanno visto Mentre tentava di risalire La sponda del canale Per riprendere la via d'uscita I vigili del fuoco Hanno attivato I dispositivi di ricerca Compresa l'unità fluviale Per tentare di recuperare L'animale Dopo diverse però ricerche In vari punti del canale Soprattutto Quelli lungo via Papiria Del capriolo Però non è stata Trovata alcuna traccia E così la polizia provinciale I vigili del fuoco Hanno sospeso le ricerche Attorno alle 10 Di questa mattina E poco distante Dalla zona In cui sono state Fatte le ricerche Per il capriolo C'è il ponte storto E Il nostro segnalatore Ci ha inviato Questa fotografia Che poi Noi abbiamo Approfondito Con delle immagini E come si può notare Sotto le arcate Tutte ammassate Ci sono I detriti Una notevole quantità Di detriti Trasportati Dall'acqua Nei giorni scorsi Chiaramente Tutto questo Preoccupa Non poco Perché in caso Di abbondanti piogge E se dovesse salire Il livello del fiume Tutti questi detriti Potrebbero Fare Da tappo E quindi Creare Eventualmente Delle Microesondazioni E alla Rocca Malatestiana Sono ormai Quasi Indirittura Dal rivo I lavori Di ristrutturazione La Rocca Malatestiana Diventerà Un grande Palcoscenico Per gli eventi Estivi Uno dei siti storici Di Fano Più importanti Sta per vivere Un nuovo corso Della sua storia La Rocca Malatestiana Che già in passato Era stato Un affascinante Scenario Di eventi E manifestazioni Estive Nel cortile interno Ma che non poteva Esprimere totalmente Il suo potenziale Data la scassa Capienza possibile Per l'assenza Di un'uscita Di sicurezza Che limitava Le presenze A meno di 90 persone Ora Dopo i lavori Sarà il contenitore D'elezione Per eventi culturali Di spettacolo E ricreativi Con capienze Che possono arrivare Anche a mille persone Sfruttando intelligentemente Una già esistente uscita Nella parte posteriore Poi murata Successivamente Rinvenuta Grazie alla pulitura Delle erbacce infestanti Dalle mure esterne E' stata creata Ad hoc Una scala di sicurezza E' stata creata Una scala di sicurezza esterna E presto Un'interna Vedrà la luce Il tutto creato Dai tecnici del comune Ed in stretto contatto Con la soprintendenza Dei beni monumentali Quindi è una grande struttura Non solo per Fano Credo che abbia Un rilievo anche territoriale E poi Il bando Che abbiamo emesso Circa una settimana fa Un bando di gara internazionale Per cui si cercano Figure imprenditoriali Che abbiano a che fare Con Lo spettacolo La cultura Ma anche la ristorazione Perché c'è previsto Un bar all'interno Quindi una serie di comfort Per gestire questo monumento Tutto l'anno Una sala superiore Per cento posti Che possa Appunto Assolvere anche Quando non c'è la buona stagione Un ricovero Per iniziative E mostre Quindi un grande contenitore Culturale Io credo Il modo migliore Per salvare i monumenti Sia quello che abbiamo interpretato Sia per il bastone Sangallo Che per la rocca Malatestiana Quindi l'uso Sostanzialmente Immaginare l'uso Altri lavori però Attendono di essere ultimati Prima di aprire il portone Come l'ascensore esterno Che permetterà L'accesso Alle sale superiori A chi ha Una mobilità ridotta E fa uso di carrozzine E trovare anche Chi gestirà Durante tutto l'anno Questo luogo Compreso il bar interno Attraverso Un bando di concorso Che scade Il 9 maggio Consultabile Sul sito del comune di Fano Alla voce Bandi e concorsi E alla rocca malatestiana Nel mese di luglio Si terrà Il Fano Jets By the Sea Dopo essere stato ospitato Per tanto tempo Nella corte malatestiana Quest'anno Il Fano Jets Torna un po' Alle sue origini Sempre malatestiane Ma questa volta Sarà la rocca A fare da cassa armonica Alle note vibranti Dei virtuosi del jazz Che passeranno A Fano Dal 22 al 30 luglio Prossimi 9 artisti Della scena musicale Mondiale Contemporanea Che suggelleranno Con gli organizzatori Il raggiungimento Di un traguardo importante Il 25esimo anno Della manifestazione C'è un aspetto Di novità In questa edizione? Si L'aspetto di novità Sono dovuto al fatto Di questa nuova location La rocca malatestiana Torna ad essere Il luogo centrale Delle manifestazioni Noi apriremo Faremo Inaugureremo Questa Questa rocca Con il festival Ma ci sarà di più Perché nella parte Antistante Della rocca In questi giardini Ci sarà questa Grande novità Questa Importante novità Per noi Che è il jazz village E allora Lui abbiamo deciso Che partirà Questo nuovo Progetto di green jazz In cui il festival Sarà sostenibile In tutte le sue parti Ci saranno Anche da parte Non gastronomica Ma piuttosto Che da parte Didattica Insomma Un festival Che sia sostenibile E che funzioni Da raccordo Fra la città E la rocca Questo è Il nostro Intento Impensabile Nell'anno Della sua scomparsa Non dedicare Il Fano jazz A Marco Maggioli Che con lungimiranza E innovazione Nel 1991 Da assessore Al turismo Portò La musica del mondo A Fano Ad un anno Dalla morte Di Donatilio Rivelli Al circolo Acli di Cucurano A Fano Giovedì sera Alle ore 21 Si terrà un incontro Per ricordare La sua figura Rileggere i suoi pensieri E l'opportunità Di riascoltare Le sue parole Specchio fedele Del suo stile Asciutto e diretto Del suo modo franco E umile Della sua fede Sincera e serena Della sua cura E premura Per l'altro Che incontrava Donatilio Rivelli È stato un sacerdoto E molto amato Dal popolo Dei fedeli Non solo L'11 aprile Anniversario Della sua nascita In cielo Sarà celebrata Nella chiesa Di Cucurano Una santa messa In suffragio Alle 20 e 30 E il vescovo di Fano Invece Monsignor Armando Trasarti Si è recato oggi Per la prima volta In visita Presso il comando provinciale Della guardia di finanza Di Pesaro Dove è stato accolto Dal comandante provinciale Il colonnello Antonino Raimondo E da una rappresentanza Del personale E dai finanzieri Del comando provinciale Di Pesaro Del nucleo Di polizia tributaria Delle compagnie Di Pesaro Rubino E Fano E dei relativi familiari Monsignor Trasarti Dopo un breve colloquio Con il personale Ha tenuto Una conferenza Sul tema Gli uomini di Stato Si prendono cura Del bene comune Identità personale E responsabilità civile Ed era questa L'ultima notizia in scaletta Grazie per la vostra Cortese attenzione L'informazione torna Domani mattina Alle 7.30 In diretta Con Occhio ai giornali La rassegna stampa Grazie per averci seguito Buona serata a tutti